Signor Martin. Non tedeschi, non rispettano la legge, non la rispetta nessuno tranne i genitori tedeschi. Vabbè, d'accordo, però scusate se non trovo anche un qualche dubbietto, forse di più. In questa stessa sala, poco più di un anno fa, e con difficoltà, il Presidente ha insistito per avere la possibilità di sentire lo Jugendamt e sono venuti e hanno fatto il discorso che già conosciamo. Siamo qui nell'interesse dei minore e ricordatevelo, là in fondo c'era un bambino, anzi un minore che non era più, era un appena diciottenne polacco che aveva vissuto la stessa situazione e lei gli ha dato la parola e questo diciottenne ha detto lo Jugendamt, non è vero, io faccio parte di quei bambini che volevano vedere la mamma, la mia polacca, e me l'avete vietato. Quindi lì c'è violazione della libera circolazione delle persone, è contrario allo spirito, alle regole europee. Allora, qual è stato l'errore? Non la colpa, l'errore? Beh, ho parlato di sofferenza, certo ha perso il figlio, comunque qui l'errore del Signore è stato fidarsi, fidarsi della giustizia e dei tribunali e le hanno teso una trappola, perché se se ne fosse stata bella tranquilla in Francia avrebbe suo figlio con sé oggi, allora cosa volete che facciano i deputati non tedeschi? Cosa faccia, diciamo, ai genitori non tedeschi andate in Germania e fatevi rubare il figlio? Cosa volete che facciamo? Che facciamo una guerra? Perché io non conosco un unico caso, la Commissione mi deve presentare un caso in cui un genitore non tedesco ha avuto ragione, non ne conosco neanche una. Io che vengo dalla regione della signora Bright ho decine e decine di casi simili, decine. Ma in Lorena non ci sono solo imbroglioni delle canaglie, dei fuori legge e lo si sa, c'è già stata una condanna della Corte dei diritti dell'uomo e cos'è cambiato? Niente. Allora, denunciamo l'ipocrisia dei Paesi membri. Qual è questo potere, questa forza occulta che è la Germania? Io non lo so perché anche il mio governo, che sono andato a vedere, io ho chiesto alla cancelleria di parlare del caso Bright e appena si comincia a parlare di Uganda, no, 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 è un dossier sensibile e non bisogna parlarne. Quindi io qui denuncio l'ipocrisia dei Paesi membri e vorrei proprio sapere qual è la forza di questo potere occulto, è veramente una cosa straordinaria. Ma dov'è l'interesse del minore in tutto questo? Perché io non lo vedo. La passione è molto tutto questo e questo vale anche per me, ma dobbiamo mantenere la mente fredda perché non serve a nessuno investire troppa emotività in questo. E' una petizione come altre.